CONTRACCAMBIATI Gruppo di Catania, Guida Conoscendo l'animo umano, so che si desidera essere contraccambiati in amore. Il vero amore, in ogni caso, non ha bisogno di riscontri, ma, purtroppo, voi siete lontani ancora dalla sua vera essenza. L'amore è come un raggio di luce che gira intorno ad un cerchio. Esso necessariamente dovrà tornare alla sua origine.